La nostra è una piccola casa editrice, molto modesta, molto piccola, che però comunque raccoglie dei bravi autori e abbiamo alcune collane, tra cui la collana Album di Famiglia, che racconta piccoli episodi di gente comune che ha fatto nel suo piccolo una parte di storia. Poi abbiamo anche, come quest'anno, un nostro autore che è un poliziotto, che lo potete trovare anche nello stand della Polizia di Stato, che ha fatto questo libro, Una notte al centralino, che è un libro molto bello, che parla praticamente di la notte passata da un poliziotto a un centralino dalle 0 alle 7 del mattino scandendo tutte le ore con i suoi pensieri, con i suoi racconti, le cose personali che sono. Il nostro è un lavoro così, diciamo, che lo facciamo con molta passione perché ci piace e ogni libro che esce è un po' come se fosse una nostra creatura. Grazie a tutti.